Mi trovo a Moio della Civitella, provincia di Salerno, presso la sede della Missi Ricordia Locale, in occasione dell'incontro pubblico per la creazione di comunità energetiche rinnovabili per autoconsumo collettivo di quell'articolo 42 bis della legge 8 2020. Sindaco Enrico Gagnarra, importante appuntamento qui a Moio, si parla di energie rinnovabili. È stato veramente un incontro, un dibattito, un convegno molto molto interessante, perché il tema di cui si trattava è l'energia, più nello specifico comunità di energia rinnovabile. Noi in verità già da un po' di tempo, infatti la nostra delibera risale al giugno del 2021, noi la delibera numero 4 del 29 giugno 2021 abbiamo dato l'input per avviare la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e siamo partiti facendo una manifestazione di interesse per individuare un ente esterno, un soggetto esterno che potesse accompagnare il comune nella realizzazione di questa comunità energetica. Ecco che è arrivato Enelix. La comunità sarà formata da soggetti che si aggregano. Ci sarà il comune come, diciamo, socio di maggioranza, così, perché il comune partirà proprio su questo edificio, partirà subito nei prossimi giorni con un impianto di 20 kilowatt, poi altri 18 kilowatt ci sarà un altro progetto che pure partirà, anzi è già partito, sulla scuola dell'infanzia a Pellare. In compagnia dell'avvocato Luigi Di Fiore. Allora, buonasera a tutti. Io rappresento la Enertec, la società appaltatrice di Enelix, che si occupa di sviluppare questi progetti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili in tutta la regione Campania e in particolar modo mi pregio di portare avanti queste iniziative nel mio territorio, nel Cilento. C'è stata questa grande e bella iniziativa di questo piccolo comune, di Moio della Civitella, dove con Enelix siamo riusciti a ottenere, a giudicarci la manifestazione di interesse per la costituzione di questa comunità energetica. Le comunità energetiche rinnovabili sono un'opportunità per combattere la povertà energetica e le conseguenze negative del cambiamento climatico e attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici o impianti da fonti rinnovabili con i quali si può condividere l'energia all'interno della comunità energetica che è un'associazione che va a costituirsi, in questo caso nel caso di Moio della Civitella il comune sarà il socio fondatore di questa associazione, realizzeremo questo impianto fotovoltaico con il quale autoconsumerà, in parte questo verrà realizzato su una scuola, in parte autoconsumerà l'energia, l'energia in esubero verrà immessa in rete e verrà condivisa con i soci consumatori della comunità energetica quindi si dà un beneficio anche alla cittadinanza, alla cittadinanza piccole e medie imprese, attività commerciali e quant'altro che potranno consumare sul territorio dove viene prodotta questa energia e ottenere un beneficio economico oltre che aiutare l'ambiente come soci consumatori, i quali soci consumatori faranno parte di questa comunità energetica senza avere esporse economici ma mettendo semplicemente a disposizione la loro bolletta per la comunità.